Oggi è possibile per i sordi riacquistare l'udito grazie ad un impianto in grado di sostituirsi all'orecchio danneggiato. Ecco questo è un impianto cocleare, è composto da un ricevitore e da uno stimolatore. In pratica il ricevitore viene posto a livello della squama dell'osso temporale e il multielettrodo viene posto a livello dei giri cocleari. Dove verrà inserito il multielettrodo, cioè praticamente la componente che poi dovrà stimolare il nervo acustico. Lui è Giuseppe Messinese, ha 26 anni e fin da bambino ha perduto il senso dell'udito. Nel centro-sud sarà il primo operato con impianto cocleare. Tutti i sordi possono riacquistare l'udito? No, purtroppo non tutti i sordi, c'è una selezione, cioè quei sordi che hanno ancora una coclea indenne. Comunque è una buona percentuale. Ottima percentuale, direi quasi dell'80%. Da domani ne dico la...